performance it in questo workout dinamico e impegnativo lavoriamo tutto il corpo con esercizi ad intensità intervallata iniziamo ok iniziamo circonduzione braccia in avanti movimento ampio respira profondamente facciamo un buon riscaldamento prima di iniziare questo workout it scaldiamo bene la parte superiore inferiore del corpo 5 4 3 2 1 cambio ora indietro vai piano fai movimenti ampi e controllati scaldiamo bene spalle bicipite tricipite tutta la parte superiore 10 secondi inizia a respirare già da subito sincronizza respirazione naso bocca 3 2 1 ok step touch passi laterali destra sinistra continua inizia a coordinare braccia e gambe sincronizza il movimento lavora sia il sopra che il sotto 3 2 1 cambio spostamento laterale mano al piede opposto vai a fondo laterale e mano al piede opposto non sbilanciarti in avanti scaldiamo bene anche la parte inferiore del corpo 5 4 3 2 1 via zancio frontale alternato cerca di toccare il piede con la mano chiudi il corpo quando fai lo slancio sali tocco la punta sali tocco la punta sincronizza bene il movimento 3 2 1 cambio posizione di mezzo squat spingi sulla gamba destra movimento lento controllato busto eretto quando scendi mantieni il bacino arretrato vai 5 4 3 2 1 ok ora spingi sulla gamba sinistra vai parti subito pam pam quando scendi i talloni ben appoggiati a terra sincronizza il movimento braccia e gambe 10 secondi mezzo squat e spinta 3 2 1 ok spinta indietro cambio braccia lungo i fianchi scaldiamo bene sali con il braccio e scendi con l'altro scaldiamo la parte alta la parte bassa prima di questo workout it 5 4 3 2 1 torsione tronco posizione di mezzo squat braccia 90 gradi ruota il tronco vai vai movimento lento controllato 5 4 3 2 1 ok iniziamo la sessione it 30 secondi di esercizio veloce e 30 secondi di recupero attivo vai jumping jack da subito alziamo il ritmo tieni le braccia leggermente piegate pam 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 15 secondi vai alziamo i battiti su 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 mantieni il ritmo inizia a respirare naso bocca naso bocca 5 4 3 2 1 step touch vai passi laterali a destra e sinistra e sinistra mantieni il ritmo non ti fermare respira respirazione attiva lavora braccia e gambe mantieni il ritmo respirazione vai vai 5 4 3 2 1 ok giù anche movimento giù a terra non salire troppo con il bacino le braccia sono tese e perpendicolare al movimento mantieni il ritmo addome contratto respirazione attiva braccia tese vai 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 mantieni il ritmo veloce non rallentare 5 4 3 2 1 calciato i glutei calciate i glutei vai vai lenta siamo in piedi cerca di toccare i glutei con i talloni approfitta per respirare vai sali e tocco sali e tocco movimento controllato respira ci prepariamo per lo slancio con il ginocchio vai 5 4 3 2 1 vai slancio in avanti con la destra scendi bene con il ginocchio addome contratto corpo inclinato leggermente in avanti gambe di appoggio leggermente piegata vai movimento controllato sincronizza bene braccia e gambe respirazione attiva non ti fermare 5 4 3 2 1 ok step touch recuperiamo con lo step touch passi laterali destra sinistra respira e recupera ci prepariamo per lo slancio con il ginocchio ok vai passo laterale destro laterale sinistro respira non ti fermare mantieni il ritmo riprendi fiato 5 4 3 2 1 vai slancio più ginocchio su sinistro slanciamo con la gamba sinistra scendi risali col ginocchio mantieni l'addome contratto movimento fluido continuo corpo inclinato leggermente in avanti sincronizza bene il movimento con le braccia ti aiuta a essere più rapido più veloce vai vai mantieni il ritmo non ti fermare 5 4 3 2 1 calciate i glutei recupera con la calciata i glutei cerca di toccare i glutei con i talloni approfitta per recuperare in questa figura respira rimani sempre in movimento vai 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 braccia e gambe sempre in movimento non ti fermare 5 4 3 2 1 jump vai salta su posizione di mezzo squat un salto sali un salto scendi in posizione mantieni il ritmo squat salto squat salto questo è il ritmo segui il ritmo del video non ti fermare lavoriamo gambe e glutei vai 5 4 3 2 1 step touch recupera con lo step touch passi laterali ampi usa le braccia per spostarti a destra e a sinistra mantieni sempre il movimento attivo non rallentare sincronizza bene la respirazione ci siamo alla grande vai 10 secondi step touch step touch 5 4 3 2 1 ok facciamo una breve pausa riprendiamo fiato scarichiamo un po la tensione e ripartiamo 13 secondi con 3 jumping jack più 4 sforbiciate 3 2 1 vai riprendiamo 3 jumping jack veloci e 4 sforbiciate 25 secondi separa bene due esercizi movimento pulito e controllato 1 2 3 e vai e vai e vai mantieni il ritmo mantieni il ritmo mantieni il ritmo non ti fermare sincronizza bene le braccia 5 4 3 2 1 ok step touch passi laterali a destra e sinistra approfitta per respirare in questa fase recupera riprendi fiato ci prepariamo per il plank in movimento saltato 3 2 1 giù in plank saltello e porto un ginocchio al petto destro sinistro resisti addome contratto vai pam 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 braccia tese respirazione attiva saltello e salgo col ginocchio vai 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 mantieni il ritmo del video 5 4 3 2 1 ok calciate i glutei 30 secondi vai respira cerca di toccare i glutei con i taloni approfitta per respirare muovi anche le braccia ci prepariamo per sforbiciata e ginocchio sinistro al petto 3 2 1 vai 4 sforbiciate e ginocchio sinistro su mantieni un ritmo sostenuto concentrati sulla coordinazione respira le braccia devono lavorare con le gambe sincronizza bene 10 secondi vai sforbiciata e sali sforbiciata e sali 3 2 1 ok step touch respira passi laterali a destra e sinistra recupera bene respira step touch respiriamo 3 2 1 4 sforbiciate e ginocchio destro cambiamo la gamba ritmo precisione aiutati con le mani per mantenere l'equilibrio per sincronizzare bene il movimento respirazione attiva non rallentare mantieni il ritmo 4 sforbiciate e sali sali sforbiciate sali mantieni mantieni 5 4 3 2 1 calciate i glutei lenta cerca di toccare i glutei con i taloni approfitta per respirare in questa fase 10 secondi e ci prepariamo per i 3 jumping jack più squat 3 2 1 vai 3 jumping jack e ginocchio squat jumping jack veloci 1 2 3 e squat contro l'altro completa la posizione di squat vai prima di risalire squat squat sali 1 2 3 jumping jack e scendo vai mantieni il ritmo giù 1 2 3 e giù 3 2 1 ok step touch respira recupera riprendi fiato step touch destra sinistra vai respira riprendi fiato vai 3 2 1 ok piccola pausa di 20 secondi recupera le forze riprendi fiato non lavorare mai in apnea respira sempre negli esercizi ripartiamo con il jumping jack più alzata frontale 3 2 1 riprendiamo jumping jack e distensione frontale delle braccia aumentiamo i tempi un salto braccia laterali un salto braccia frontali vai massima coordinazione respirazione stabilità intensità e concentrazione vai vai mantieni il ritmo vai frontale sopra frontale sopra vai 15 secondi non ti fermare spingiamo spingiamo mantieni alto il ritmo non rallentare mantieni vai 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 5 4 3 2 1 recupera calciate i glutei cerca di toccare i glutei con i taloni approfitta per recuperare respira prendi bene il fiato ci prepariamo per le quattro sforbiciate e plank recupera muovi le braccia respira sincronizza il movimento naso e bocca 5 4 3 2 1 vai 4 sforbiciate e giù in plank salto sforbiciato poi giù in plank e torno sul posto salti rapidi discesa in plank controllata separa bene i due movimenti sali sforbiciata e giù blocco risali 1 2 3 4 sforbiciate giù in plank vai mantieni il ritmo respira per non andare in affanno vai 5 4 3 2 1 ok recupera step touch sali passi laterali a destra e sinistra solleva bene i piedi da terra ci prepariamo per affondo più skip mantieni mantieni lo step touch recupera respira ci siamo ripartiamo alla grande 3 2 1 vai a fondo laterale destro più skip a fondo laterale verso destra sali in skip controllato solleva bene il ginocchio quando fai lo skip utilizza le braccia per stabilizzare e migliorare l'equilibrio nel movimento mantieni il ritmo non rallentare vai utilizza le braccia per la stabilità continua sali ginocchio sali 3 2 1 ok 30 secondi di calciata i glutei cerca di toccare i glutei con i taloni respira approfitto per recuperare il fiato ripartiamo con affondo più skip dall'altro lato facciamo l'altra gamba 10 secondi respira 5 4 3 2 1 vai a fondo laterale sinistra poi sali in skip a fondo laterale preciso solleva bene il ginocchio sali quando fai lo skip su sali utilizziamo le braccia per la stabilità e l'aiuto del movimento vai scendo risalgo scendo risalgo sincronizza con il movimento la respirazione vai non lavorare in apnea mantieni il ritmo 5 4 3 2 1 ok recupera con lo step touch passi laterali a destra e sinistra ci prepariamo per due jumping jack più salto in plank recupera recupera step touch respirazione naso e bocca quando fai l'esercizio non lavorare in apnea 5 4 3 2 1 via 2 jumping jack mani a terra e salto in plank 2 jumping jack mani a terra salto in plank jumping jack veloci vai giù plank preciso gestisci bene la respirazione nei due movimenti sali 2 jumping jack mani a terra plank mantieni il ritmo separa bene i due movimenti respirazione attiva resisti resisti non mollare vai giù e risali 5 4 3 2 1 ok 30 secondi di cacciata i glutei recupera bene ma non fermarti mantieni sempre il tuo corpo in movimento ora faremo una breve pausa per recuperare per riprendere il fiato e poi ripartiamo intanto respira rallentiamo un po i battiti recuperiamo 10 secondi secondi step touch 5 4 3 2 1 ok recupera 20 secondi recuperiamo bene il fiato ripartiamo col jumping jack veloce ad alta intensità 10 secondi respira 5 4 3 2 1 ok riprendiamo jumping jack 30 secondi veloci vai tieni le braccia leggermente piegate mantieni il ritmo sincronizza bene il movimento massima coordinazione respirazione stabilità intensità e concentrazione vai 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 mantieni il ritmo vai non ti fermare spingiamo spingiamo mantieni alto il ritmo 2 1 step touch vai passi laterali a destra e sinistra mantieni il ritmo non ti fermare respira respira respirazione attiva lavora braccia e gambe mantieni il ritmo respirazione vai vai 2 1 ok giù planchi movimento giù a terra non salire troppo con il bacino le braccia sono tese e perpendicolari al movimento mantieni il ritmo addome contratto respirazione attiva braccia tese vai 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 mantieni il ritmo veloce non rallentare 5 4 3 2 1 calciata i glutei vai lenta siamo in piedi cerca di toccare i glutei con i talloni approfitta per respirare vai sali e tocco sali e tocco movimento controllato respira ci prepariamo per lo slancio col ginocchio vai 5 4 3 2 1 vai slancio in avanti con la destra scendi bene con il ginocchio addome contratto corpo inclinato leggermente in avanti gambe di appoggio leggermente piegata vai movimento controllato sincronizza bene braccia e gambe respirazione attiva non ti fermare 5 4 3 2 1 ok step touch recuperiamo con lo step touch passi laterali destra sinistra respira e recupera ci prepariamo per lo slancio col ginocchio ok vai passo laterale destro laterale sinistro respira non ti fermare mantieni il ritmo riprendi fiato 5 4 3 2 1 vai slancio più ginocchio su sinistro slanciamo con la gamba sinistra scendi risali col ginocchio mantieni l'addome contratto movimento fluido continuo corpo inclinato leggermente in avanti sincronizza bene il movimento con le braccia ti aiuta essere più rapido più veloce vai vai mantieni il ritmo non ti fermare 5 4 3 2 1 calciate i glutei recupera con la calciata i glutei cerca di toccare i glutei con i talloni approfitta per recuperare in questa figura respira rimani sempre in movimento vai 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 braccia e gambe sempre in movimento non ti fermare 5 4 3 2 1 jump vai salta su posizione di mezzo squat un salto sali un salto scendi posizione mantieni il ritmo squat salto squat salto questo è il ritmo segui il ritmo del video non ti fermare lavoriamo gambe e glutei vai 5 4 3 2 1 step touch recupera con lo step touch passi laterali ampi usa le braccia per spostarti a destra e a sinistra mantieni sempre il movimento attivo non rallentare sincronizza bene la respirazione ci siamo alla grande vai 10 secondi step touch step touch 5 4 3 2 1 ok facciamo una breve pausa riprendiamo ora cambiamo i tempi 30 secondi di esercizi ad alta intensità e 20 secondi di recupero attivo ripartiamo con 3 jumping jack più 4 sforbiciate 3 2 1 vai riprendiamo 3 jumping jack veloci e 4 sforbiciate 25 secondi separa bene i due esercizi movimento pulito e controllato 1 2 3 e vai e vai e vai e vai mantieni il ritmo mantieni il ritmo non ti fermare sincronizza bene le braccia 5 4 3 2 1 ok step touch passi laterali a destra e sinistra approfitta per respirare in questa fase recupera riprendi fiato ci prepariamo per il plank in movimento saltato 3 2 1 giù in plank saltello e porto un ginocchio al petto destro sinistro resisti addome contratto vai pam 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 braccia tese respirazione attiva saltello e salgo col ginocchio vai 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 mantieni il ritmo del video 5 4 3 2 1 ok calciate i glutei 30 secondi vai respira cerca di toccare i glutei con i talloni approfitta per respirare muovi anche le braccia ci prepariamo per sforbiciata e ginocchio sinistro al petto 3 2 1 vai vai 4 sforbiciata e ginocchio al petto vai 4 sforbiciata e ginocchio sinistro su mantieni un ritmo sostenuto concentrati sulla coordinazione respira le braccia devono lavorare con le gambe sincronizza bene 10 secondi vai sforbiciata e sali sforbiciata e sali 3 2 1 ok step touch respira passi laterali a destra e sinistra recupera bene respira step touch respiriamo 3 2 1 4 sforbiciata e ginocchio destro cambiamo la gamba ritmo precisione aiutati con le mani per mantenere l'equilibrio per sincronizzare bene movimento respirazione attiva non rallentare mantieni il ritmo 4 sforbiciate e sali sali sforbiciate sali mantieni mantieni 5 4 3 2 1 calciate i glutei lenta cerca di toccare i glutei con i talloni approfitta per respirare in questa fase 10 secondi e ci prepariamo per i 3 jumping jack più squat 3 2 1 vai 3 jumping jack e ginocchio squat jumping jack veloci 1 2 3 e squat contro l'altro completa la posizione di squat vai prima di risalire squat sali 1 2 3 jumping jack e scendo vai mantieni il ritmo giù 1 2 3 e giù 3 2 1 ok step touch respira recupera riprendi fiato vai 3 2 1 ok ora aumentiamo i tempi 40 secondi di esercizi ad alta intensità e 30 secondi di recupero attivo non lavorare mai in apnea respira sempre negli esercizi ripartiamo con il jumping jack più alzata salto frontale 3 2 1 riprendiamo jumping jack e distensione frontale delle braccia aumentiamo i tempi un salto braccia laterali un salto braccia frontali vai massima coordinazione respirazione stabilità intensità e concentrazione vai vai mantieni il ritmo vai frontale sopra frontale sopra vai 15 secondi non ti fermare spingiamo spingiamo mantieni alto il ritmo non rallentare mantieni vai vai 5 4 3 2 1 recupera calciate i glutei cerca di toccare i glutei con i talloni approfitta per recuperare respira prendi bene il fiato ci prepariamo per le 4 sforbiciate e plank recupera muovi le braccia respira respira sincronizza il movimento naso e bocca 5 4 3 2 1 vai 4 sforbiciate e giù in plank salto sforbiciato poi giù in plank e torno sul posto salti rapidi discesa in plank controllata separa bene i due movimenti sali sforbiciata e giù blocco risali 1 2 3 4 sforbiciate giù in plank vai mantieni il ritmo respira per non andare in affanno vai 5 4 3 2 1 ok recupera step touch sali passi laterali a destra e sinistra solleva bene i piedi da terra ci prepariamo per affondo più skip mantieni mantieni lo step touch recupera respira ci siamo ripartiamo alla grande 3 2 1 vai a fondo laterale destro più skip a fondo laterale verso destra sali in skip controllato solleva bene il ginocchio quando fai lo skip utilizza le braccia per stabilizzare e migliorare l'equilibrio nel movimento mantieni il ritmo non ralentare vai utilizzare braccia per la stabilità continua sali ginocchio sali 3 2 1 ok 30 secondi di calciata i glutei cerca di toccare i glutei con i taloni respira approfitta per recuperare il fiato ripartiamo con affondo più skip dall'altro lato facciamo l'altra gamba 10 secondi respira 5 4 3 2 1 vai a fondo laterale sinistra poi sali in skip a fondo laterale preciso solleva bene il ginocchio sali quando fai lo skip su sali utilizziamo le braccia per la stabilità e l'aiuto del movimento vai scendo risalgo scendo risalgo sincronizza con il movimento la respirazione vai non lavorare in apnea mantieni il ritmo 5 4 3 2 1 ok recupera con lo step touch passi laterale a destra e sinistra ci prepariamo per due jumping jack più salto in plank recupera step touch respirazione a naso e bocca quando fai l'esercizio non lavorare in apnea 5 4 3 2 1 via due jumping jack mani a terra e salto in plank 2 jumping jack mani a terra salto in plank jumping jack veloci vai giù plank preciso gestisci bene la respirazione nei due movimenti sali 2 jumping jack mani a terra plank mantieni il ritmo separa bene due movimenti respirazione attiva resisti resisti non mollare vai giù e risali 5 4 3 2 1 ok 30 secondi di cacciata ai glutei recupera bene ma non fermarti mantieni sempre il tuo corpo in movimento ora faremo una breve pausa per recuperare per riprendere il fiato e poi ripartiamo intanto respira rallentiamo un po' i battiti recuperiamo 10 secondi step touch 5 4 3 2 1 ok recupera ultimo blocco poi passiamo al defaticamento respira 10 secondi respira 5 4 3 2 1 ok riprendiamo jumping jack 30 secondi veloci vai tieni le braccia leggermente piegate mantieni il ritmo sincronizza bene il movimento massima coordinazione respirazione stabilità intensità e concentrazione vai 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 mantieni il ritmo vai non ti fermare spingiamo spingiamo mantieni alto il ritmo 2 1 step touch vai passi laterali a destra e sinistra mantieni il ritmo non ti fermare non ti fermare respira respirazione attiva lavora braccia e gambe mantieni il ritmo respirazione vai vai 2 1 ok giù plank in movimento giù a terra non salire troppo con il bacino le braccia sono tese e perpendicolare al movimento mantieni il ritmo addome contratto respirazione attiva braccia tese vai 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 mantieni il ritmo veloce non rallentare 5 4 3 2 1 calciate i glutei vai lenta siamo in piedi cerca di toccare i glutei con i talloni approfitta per respirare vai sali e tocco sali e tocco movimento controllato respira ci prepariamo per lo slancio col ginocchio vai 5 4 3 2 1 vai slancio in avanti con la destra scendi bene con il ginocchio addome contratto corpo inclinato leggermente in avanti gambe di appoggio leggermente piegata vai movimento controllato sincronizza bene braccia e gambe respirazione attiva non ti fermare 5 4 3 2 1 ok step touch recuperiamo con lo step touch passi laterali destra sinistra respira e recupera ci prepariamo per lo slancio col ginocchio ok vai passo laterale destra laterale sinistro respira non ti fermare mantieni il ritmo riprendi fiato 5 4 3 2 1 vai slancio più ginocchio su sinistro slanciamo con la gamba sinistra scendi risali con il ginocchio mantieni l'addome contratto movimento fluido continuo corpo inclinato leggermente in avanti sincronizza bene il movimento con le braccia ti aiuta a essere più rapido più veloce vai vai mantieni il ritmo non ti fermare 5 4 3 2 1 calciata i glutei recupera con la calciata i glutei cerca di toccare i glutei con i talloni approfitta per recuperare in questa figura respira rimani sempre in movimento vai 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 braccia e gambe sempre in movimento non ti fermare 5 4 3 2 1 jump vai salta su posizione di mezzo squat un salto sali un salto scendi posizione mantieni il ritmo squat salto squat salto questo è il ritmo segui il ritmo del video non ti fermare lavoriamo gambe e glutei vai 5 4 3 2 1 step touch recupera con lo step touch passi laterali ampi usa le braccia per spostarti a destra e a sinistra mantieni sempre il movimento attivo non rallentare sincronizza bene la respirazione ci siamo alla grande vai 10 secondi step touch step touch step touch 5 4 3 2 1 ok facciamo una breve pausa riprendiamo fiato scarichiamo un po' la tensione e ripartiamo tra 10 secondi con defaticamento 3 2 1 ok defaticamento circonduzione spalle vai in avanti inizia a recuperare il fiato iniziamo a scaricamento circonduzione spalle vai indietro scarichiamo bene sciogliamo bene 10 secondi inizia a respirare già da subito sincronizza respirazione naso bocca 4 3 2 1 mobilizzazione colonna gambe divaricate posizione di mezzo squat prendi aria e inarca la schiena fuori l'aria e crea una curva con la colonna vai movimento lento controllato rilassati scarichiamo bene sciogliamo bene 5 4 3 2 1 stretching gamba sinistra vai prendi con la mano il piede sinistro tieni la schiena dritta resti in equilibrio utilizza il braccio per avere più stabilità 5 4 3 2 1 cambia gamba sciogli prendi il piede destro non sbilanciarti in avanti controlla la tua posizione utilizza il braccio per l'equilibrio respirazione sempre attiva naso e bocca 5 4 3 2 1 ok gambe divaricate e scendi frontalmente movimento lento appoggia le mani a terra o alle caviglie appoggia le mani a terra o alle caviglie 3 2 1 resti in posizione spostati lentamente verso la gamba destra prendi la gamba e rimani in posizione respira scarica le tensioni chiudi gli occhi 5 4 3 2 1 ora piano piano spostati verso sinistra sempre un movimento lento mani piedi o alle caviglie vai resti in posizione resti in posizione sciogli le tensioni la mano o nel piede o nella caviglia mantieni risali piano piano discesa frontali mani a terra mantieni resti in posizione sciogli le tensioni 3 2 1 risali piano piano ok il tuo workout è finito al prossimo allenamento vamos 408 calorie 408 calorie 408 calorie 408 calorie